Due decessi in poche ore, due tragedie che forse potevano essere evitate ma che sicuramente mettono in evidenza la fragilità del sistema sanitario regionale. Il primo episodio è avvenuto a Scafati, dove è morta una donna di 59 anni. Era in compagnia del marito dal dentista quando ha avvertito un malore. Immediata la corsa in ospedale nella speranza di trovare un medico disposto a visitarla e la telefonata al 118. Le cose purtroppo non sono andate per il verso giusto e la donna è deceduta fuori dai cancelli del Mauro Scarlato che attualmente lavora a ranghi ridotti per mancanza, un po' di spazi, un po' di personale come denuncia la stessa direzione generale dell'asla di Salerno. Un vero giallo invece è l'altra tragedia che si è consumata a Castelvolturno di notte quando un uomo di 42 anni accusa un dolore al petto e si reca a bordo della propria auto alla clinica Pineta Mare. I medici sospettano un'occlusione toracica e decidono di praticarli una radiografia insieme ad altri esami di routine. Dopo qualche ora il paziente si sente meglio, i risultati degli esami danno tutti i valori nella media e i sanitari optano per le dimissioni. L'uomo lascia la struttura e mette in moto l'auto. Pochi metri dopo la marcia si interrompe contro uno spartitraffico dell'area parcheggio. I sanitari che lo avevano visitato poco prima si precipitano per tentare di rianimarlo. Tutto vano, c'è solo da constatarne il decesso. Le ragioni sono ancora tutte da chiarire. I parenti intanto hanno presentato formale denuncia ai carabinieri.